Scusa, puoi togliere i piedi dal cruscotto che lo sporchi? Qui come sei pignolo? Io sono pignolo. Beh, un po' pignolo lo serve. Cioè questo qua mi cammina sul cruscotto e io sarei pignolo. Capito, ma devi anche saperle accettare le critiche, se no... Vabbè, allora, visto che sono pignolo, puoi spostare la gambetta, se no non entra nelle mani. Lo vedi che sei veramente pignolo? Allora facciamo tutto il viaggio in prima, perché se no io sarei pignolo. Comunque mettiti le cinture, se facciamo un incidente e sbatti l'assicurazione non paga. Ma che serve? Stiamo andando a 30 all'ora! Visto? Allora sei bastardo. E pignolo. Al prossimo episodio